La femmina importante non è quello che truca a ogni ogni età, ma quello che in ogni età saveste onestà, valore e dignità. L'hom interessante non è muscoloso, bello o danaroso, ma è quello che con una rosa sa farà una femmina cosa meravigliosa. La femmina eccezionale non è quella sensuale, ma quella che con dolcezza ti fa scivarsi con la carezza. L'hom più uom in lato è quella che resta la vita per i figli, per la moglie e per la famiglia. La femmina, che è una vera femmina, resta casta e onesta, può marire i figli e vorresti. Grazie. 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 Grazie.